Roma Lina Suluku si è dimessa chi è la manager che Roma Lina Suluku si dimette uno sguardo alla manager Roma Lina Suluku si dimette uno sguardo alla manager Lina Suluku la nota manager dell'As Roma ha annunciato le sue dimissioni suscitando l'irrequietezza di tifosi ed esperti la decisione arriva dopo un anno pieno di sfide e cambiamenti all'interno del club sotto la sua guida la squadra ha vissuto sia battute d'arresto sportive che progressi significativi secondo quanto riportato Suluku era insoddisfatta delle strutture interne del club in particolare c'erano domande sulla comunicazione e sulla direzione strategica del club una fonte vicina ha dichiarato che non riusciva più a identificarsi con la dirigenza attuale il concetto che aveva progettato per la squadra ha incontrato resistenza e si è sentita sempre più isolata nella sua posizione durante il suo mandato il club è stato più volte afflitto da problemi di infortuni il che ha influenzato le prestazioni della squadra tuttavia una fonte interna ha sottolineato che Suluku ha preso la decisione giusta di ingaggiare nuovi talenti questi trasferimenti erano in linea con gli obiettivi a lungo termini che aveva formulato per la S. Roma durante il suo periodo si sono inoltre valutate migliore all'Accademia Giovanile per creare le basi per futuri successi zusätzlich wusste Suluku die Bedürfnisse der Fans zu schätzen und arbeitete an Initiativen um die Fan-Gemeinde enger an den club zu binden sie legte grossen Wert auf die Community Arbeit und setzte sich für soziale Projekte ein die das Leben in Rom positiv beeinflussten der Rücktritt kam jedoch für viele überraschend Experten diskutieren nun darüber welche neuen Wege der Verein einschlagen könnte um die Herausforderungen zu bewältigen die sich ohne ihre Führung stellen werden Übersetzung auf Italienisch Lenderkürzel E.T.E.T. Inoltre Suluku sapeva apprezzare le esigenze dei tifosi e lavorava a iniziative per legare più strettamente la comunità al club. Dava grande importanza al lavoro comunitario e si impegnava per progetti sociali che influenzassero positivamente la vita a Roma. Tuttavia le dimissioni sono state una sorpresa per molti. Gli esperti discutono ora su quali nuove strade possa intraprendere il club per affrontare le sfide che si presenteranno senza la sua guida. Ecco la traduzione del testo in italiano. Alla ricerca di una sostituta per Lina Suluku, la S-Roma dovrà certamente fare riferimento ai tentativi di reclutamento falliti degli ultimi anni. Un giornalista sportivo ha osservato che le sfide in Serie A potrebbero diventare ancora più grandiose senza una forte leadership. I futuri decisori dovranno affrontare le sfide legate all'integrazione di nuovi giocatori e alla stabilizzazione dell'allenatore, al fine di garantire la competitività nel calcio italiano. Le dimissioni di Lina Suluku avranno sicuramente un impatto profondo sulla S-Roma. Alcuni tifosi hanno già espresso preoccupazioni riguardo ai prossimi passi del club e su come i nuovi dirigenti possano continuare o eventualmente modificare la visione di Suluku. Nonostante le critiche, resta da sperare che il club possa presentarsi con una strategia stabile e orientata al futuro.